Ho rassegnato le dimissioni perché la legge regionale impone ai sindaci di farlo per mettere a disposizione della comunità progressista, civica e solidale di questa provincia la mia candidatura, così come mi è stato chiesto da questa comunità ma anche da tanti amministratori locali che ringrazio. Mettere a disposizione alla fine del mio decennale impegno da sindaco di Giulianova la mia esperienza, ma non solo la mia esperienza, tutta quella squadra che con me c'è, esiste in questa città, in questa provincia, che chiede discontinuità e unità attorno ad un progetto di rilancio di questa sensibilità che alberga nella nostra società, ma che non ha una rappresentazione politica all'altezza di confrontarsi con chi ha tradito l'impegno in questi anni.